La notizia oggi viene... ... c'è un sindaco di un paese... ... un po' di un po' di un po' di una settatura di una bambina nonna... ... di etnia romma... ... perché giustamente, come dice, giustamente... ... prima chi paga le tasse... ... non c'è un posto per chi paga i tassi... ... sicuramente per chi non paga niente... ... però mettendosi la mano sulla coscienza... ... è possibile che non si riesce a trovare un posto piccolino per un portiere... ... di una bambina che non c'entra niente con la sua figlia che è nata... ... perché è nata lì... ... doveva nascere... ... un miliardario è nata un piede un rom... ... che è il tastino... ... e tu devi dare la mano sulla coscienza...